Porta Emma Villas, nuovo cambio sulla panchina bianco-blu, in arrivo c'è l'ex Cichello, tutto questo e molto altro ancora. E adesso il volley, c'è un nuovo cambio in panchina per la Emma Villas Siena, coach Zanini ha svolto questo pomeriggio quello che è stato probabilmente il suo ultimo allenamento. Al suo posto tornerà l'ex tecnico Juan Manuel Cichello. Il servizio. Era nell'area un possibile cambio di direzione in casa Emma Villas e così sarà. Come anticipato ieri da Siena TV dopo il capo casalingo contro la Sirsefiti Perugia, Juan Manuel Cichello tornerà ad allenare il bianco-blu da domani mattina. Sentiamo le parole del presidente Bisogno che in conferenza stampa aveva lasciato presagire un cambio alla guida della squadra. Il mio compito è cercare di fare la squadra, cercare di pagarli, di trovare gli sponsor, di portare la gente al palazzetto. Poi dopo c'è l'allenatore che mi sembra mai, sono 4-5 partite, che qui anche lui mi pare non abbia tirato fuori dei grandi risultati, nonostante sia arrivato Savani e Vandervoort. Certo, un po' di dubbi, oggi io ce l'ho, ora valuterò un po' e stanotte. La notte non dormo poco, domani valuteremo un po' anche alcune cose che mi infastidiscono un po'. Coach Zanini, subentrato a Cichello, ha svolto questo pomeriggio il suo ultimo allenamento. Si attende quindi a breve l'ufficialità da parte della società bianco-blu.